Celebrata Ravenna la giornata mondiale del migrante e del rifugiato alla presenza dei vari gruppi etnici della città, tema scelto da Papa Francesco, non si tratta solo di migranti. Qual è il quadro dell'etnia Ravenna? La maggioranza nigeriana, poi polacca, poi ucraina e poi varie etnie di cui il numero esigua a volte 10, 30, 40 al massimo. Quindi queste comunità si fanno sentire anche perché possono celebrare la messa nella loro lingua. Ecco, questo è importantissimo. Perché? Perché la lingua è quello che li tiene veramente ancora uniti in quanto si canta, si prega e si arriva al punto tale che anche poi i figli continueranno ad andare alla messa con loro. In Italia mi trovo bene qui perché l'accoglienza qui è una cosa che si vede nelle persone perché l'Italia è un paese unico, unico nel senso che se sei un straniero qui o sei un immigrato, diciamo, una famiglia italiana che ha due o tre panni di condividere fra tre persone, se trovano, diciamo, un straniero che ha fame, gli italiani dividono quelli tre panni fra anche quelli stranieri. Così non è che non hanno tanti ma quelli che hanno condividono con noi. Allora qui trovo bene.